Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla parte numero 10 del mio cover in italiano di Pocom Smeraldo in questa parte sconfiggeremo per l'ennesima volta la nostra rivale vera il primo Pocom che manda è Pelipper a livello 29 io mando in campo il mio schermo perché è stato molto allenato rispetto a prima adesso in realtà mando in campo Garden War perché come ho detto conosce Onda Shock e quindi contro i Pelipper che è di tipo sia acqua che volante, è super efficace Onda Shock ha effetto, lo colpisce e lo fa K-O in un colpo solo perfetto la prossima scelta sarà con Baskin che è anche con Baskin è tipo lotta quindi sempre con Garden War utilizzo la mossa Psichico che è super efficace e quindi con Baskin in un colpo solo viene messo K-O la prossima scelta è l'Ombre quindi io mando in campo il mio schermori col quale utilizzo la mossa Aerosio tanto continua a piove, Aerosio scusate tanto che lui utilizza bruciapelo io adesso la utilizzo, la mossa e metto K-O il suo Poco, in realtà lui mi ha utilizzato a natura forza con comete bene ragazzi, un'altra parte del mio cover Regine Italiano di Pocomo Smeraldo è finita spera che vi sia piaciuta votate, commentate, iscrivetevi, attendete le nuove parti e tanti saluti da Porygonzazza e da Waltrope ciao ragazzi e che figata di voce che mi è venuta wow grazie a tutti grazie a tutti